per la mancata fiducia ma ero spaventato tutto qua ma spaventato la cosa non lo so da un atteggiamento che non riesco a capire ma sembra che scusate signore se lo dico perché voi ce l'abbiate con me ma io ripa in mani di sì perché lei non sa lavorare io l'ho già spiegato no 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 prima mi fisco allora tutti e tre fuori dall'office immediatamente sto parlando con il signore adesso mia no mi ha parlato dire cosa mi fa sto zitto e poi dopo mi scarico la sua bodycam e vedo cosa è successo ok sto zitto parli parli voi due fuori dal solo marrazzo e diavolo qua ma io sono coinvolto in prima persona signori va bene allora io mi seguo finché non state a sentire i miei ordini vabbè qua stiamo uscendo pazzi buonasera andiamo molto bene sentiamo cosa da dire i signori vengono spesso al concessionario ultimamente quattro volte è successo e in poche parole come si dice vogliono che io gli consigli un'auto io non ho le capacità per consigliarli i signori insomma insultano anche abbastanza pesantemente tutto quello che sto dicendo lo posso provare ovviamente e insultano pesantemente dicono che non so fare il mio lavoro parlano con la gente che vuole comprare le auto e dicono di non comprare da me perché sono una persona che truffa i soldi metto nel ridicolo l'azienda dove lavoro è la mia persona stasera per l'appunto hanno anche dato dell'ignorante alla mia signora anche questo lo posso dimostrare ovviamente e non capisco veramente io sono una brava persona cerco di vivere la mia vita in modo tranquillo e non capisco perché questo accadimento nei miei confronti senza alcun motivo vorrei cioè non vorremmo nemmeno arrivare tipo alle denunce a queste cose di qua volevo semplicemente che signori mi lassassero in pace mi lasciassero fare il mio lavoro se poi loro non sono d'accordo con i miei sistemi di lavoro si lamentano con un mio superiore ma io devo poter lavorare capisce io non mi posso agitare sono di salute cagionevole se vuole chiamano ospedale le faccio avere la mia cartella clinica io ho problemi di respirazione e signori mi fanno agitare molto spesso questo è così c'è praticamente quello che mi sta dicendo è che loro vengono da voi da lei per un consiglio però diciamo lei non è proprio una persona più appropriata dare consigli ai clienti perché non è non so ferrato sul mestiere non è pratico non capisco semplicemente perché penso che l'auto sia una cosa soggettiva ad esempio il signore voleva un'auto d'epoca ho consigliato quello che pensavo fosse giusto per me in maniera soggettiva e signore ha detto che io non capisco il cazzo del mio lavoro e mi sta bene però mi scusi ti faccio una domanda io per esempio adoro l'arte contemporanea così vado da un antiquario chiede le pezzi di arte contemporanea spero che lui sia più esperto e che mi dia un consiglio riguardo a quello che gli chiedo però lì mi mostra che ne so magari un pezzo di antiquariato io credo che quella persona non sia né adatta né professionale a stare a quel posto proprio appunto perché se vado in concessionario spero che trovi una persona che mi sappia dare un consiglio visto che magari che i signori stanno sbagliando magari non sono bene allora credo di aver risolto l'enigma praticamente loro sono abituati magari a persone più competenti dai 9 così tanto e sono andati degli screppi ci possiamo mettere una pietra sopra quindi c'è quando bisogna per forza o bisogna per forza procedere per via legali o così signore guardi io l'ultima cosa che voglio voglio la tranquillità l'unica cosa che è arrivato a parlare col procuratore quindi adesso vorrei capire una cosa dove andrà a finire la cosa diciamo in questo momento è andata a finire che ho portato nelle prove della mia copro a procuratore e perché si è ripresentata un'altra volta questa sera questa situazione inoltre i suoi uomini mi hanno anche impedito di bere un caffè allo starbucks perché continuano a perseguitarmi il suo uomo che è appena uscito dalla porta adesso è salito sulla mia auto senza il mio consenso mi hanno telefonato se vuole l'uomo l'uomo in carne dice l'uomo robusto si mi scuso per come l'ho chiamato prima aspetta aspetta adesso io procedo per la sospensione del soggetto è andato sospendi 48 ore ufficialmente dal giornalino e cominciare un numero di telefono telefonato spacciandosi per per chi non erano e mi dia pure il numero che le dico chi è il numero in questione me lo sono salvato e pazienza e meno che lo sto cercando perché l'avevo salvato poi black posso parlare io una volta che fici di parlare il signore se io avrei un paio di cose da dire allora 5 5 5 8 5 2 2 0 0 mi ha telefonato non risulta a nessuno è una sim di quell'ausage capisco signore comunque mi ha telefonato dopo avermi fatto le domande che sembravano diciamo inerenti a questa cosa quindi una persona che sapeva più o meno tutto e alla fine ha compreso ti hai parlato col tizio gli ho detto di che mi ha risposto sto cazzo ecco non mi sembra proprio professionale come come cosa quindi immagino che insomma a ricordi logica fosse uno dei dei suoi uomini a fare questa telefonata e non mi interessa glielo sto solo dicendo per avere un guardo non credo sinceramente quindi se fosse stato un numero che sapeva cose che sapeva cose che probabilmente non sapeva nessun altro se non io e il procuratore e i suoi uomini per ricordi logica del quale se guardi e sta ricordi logica una cosa e purtroppo non è una prova lei mi capisci certo ma io non sto facendo nessuno baratto segumi un attimo ha un po modificato la realtà è signore leggermente ma ci sono le mie ipotica che possono fermare tutto quello che ho detto signore io rispetto il suo lavoro e so che lei fa un lavoro molto pericoloso e molto importante per noi però anche io sto cercando di vivere la mia vita in modo tranquillo non capisco perché lei si accanisce ci sono c'è un altro concessionario adesso spiegherò davanti al capitano va bene signore io non c'ho niente contro di lei glielo posso assicurare e anch'io c'è essere incompetenti non è una polpa signore insomma black posso spiegare io quello che la mia versione allora può parlare un po più forte non credo quello che vuoi ma credo che comunque la situazione si sia appianato da quello che non credo che lui voglia procedere ma non mi piace il fatto che comunque racconti la cosa in maniera distorta anche perché comunque lei è un superiore e voglio che lei ascolti la realtà cerchiamo di capire ma quasi non si sta mettendo il grado in mezzo qua è una chiacchierata tra persone educate giusto salvatore si è giustissimo signore procedo black sì sì parli porti porti non c'è problema dicevo sì siamo andati effettivamente quattro volte a trovare il signore la prima volta dove acquistare io un'auto sono entrato lì dentro è veramente interessato a vorrei acquistare quella macchina ho chiesto lui un consiglio il consiglio non era un consiglio incredibile ok io totalmente ignorante in materia ho chiesto a un venditore d'auto proprietario c'è che lavora in quel concessionario di consigliarmi delle auto d'epoca ok una domanda legittima o sbaglio capitano normale non è legittima l'abbiamo detto prima se uno non è se uno chiede un consiglio in un luogo dove come se uno venisse qua mi chiedesse qualcosa riguardo la legge magari ne so meno di un avvocato esatto il signore parliamo di una procedura ne so di più mi ha consigliato sul momento due auto una era una mini e un'altra era un'auto sportiva da corsa tutte due auto attuali al che io mi sono salito un po preso per il culo voglio dire ti chiedo un'autodepa che mi consigli quelle auto quindi non è questione di auto soggettivo o meno è fattuale è oggettivo il fatto che quelle siano auto recenti e lo sanno anche i bambini per strada ok mi stupiscio che un venditore non sappia queste banalità a questo punto io chiaramente mi sono un po alterato ma in maniera sempre tranquilla e gli ho fatto presente il fatto che a parere mio non fosse molto competente in materia lui si è subito incazzato questo l'abbiamo appurato che il signore magari sa meno perché ma qui non c'è una questione di sapere meno è questione che io non conosco il background la persona magari nella vita lui ha fatto altre si è trovato non so quanti anni ha io ho 43 signore ho vissuto sempre sicilia in un piccolo paese 43 ma siamo guidati c'è nel senso magari che ne so cosa faceva in sicilia non vedeva le auto immagino io facevo il contadino signore cercando di imparare a leggere e scrivere con una con una docente universitaria che mi dà lezioni miglia sembra un pc fatta apposta per far pena ragazzi un alfabeto però imparato usare le camera registrazione è un ignorante ma più o meno una via di mezzo cerco di imparare signore un povero contadino che arriva in città che non sanno leggere che scrive e prova imparare a leggere si trova un lavoro dove comunque non sa nulla arrivano i due cattivoni a mettere a mettere a luce tutte le sue incapacità e lo perseguitano la storia drammatica però le avrei anche apprezzato questa critica costruttiva e salvatore deve capire che i ragazzi sono dei detective vivono perennemente una vita fatta di quartieri brutti luoghi angusti proiettili che fischiano sulle pareti e capisce sono persone d'azione e anche capire il loro punto di vista io ho il vetto sono una sorta di pitbull capisce sono molto istruiti come vede hanno un'ottima dialettica però a volte hanno dei metodi un po magari non proprio consoni un po vecchio stampo non dico obsoleto e comunque le fanno capire che sono degli uomini tutti di un pezzo però le posso garantire una cosa importante molto importante che queste persone se ce le ha come amiche sono la migliore arma che lei può avere che sono persone che quando si innamorano di una persona e vogliono bene a quelle persone fanno di tutto per difendere e io non vorrei altro che finire l'amicizia con queste persone signore però lei non si è comportato in modo corretto perché continua la storia black dopo quella volta la prima volta noi ce ne siamo andati ok siamo tornati un secondo giorno perché marrazzo voleva realmente in questo caso acquistare un'auto io no perché avevo cambiato idea me l'avete detto anche a me che volevate comprare il signore si mette come un muro no io non consiglio assolutamente nulla prende il catalogo e basta non do consigli e anche lì chiaramente ci siamo un pochettino fiammati scusa un attimo trip consegna il distintivo è l'armamentare ci vediamo fra un paio di giorni è fuori dall'ufficio come mai fuori dall'ufficio e come mai diventano 72 ore se mi posso diventare anche due settimane cioè ma la bodica mi sono sbagliato anche dentro nella macchina guarda la bodica e poi mi dici che sono sospeso sbagliato ad entrare dalla macchina ma posso andare ma siete se ma qua stiamo imbazzando però veramente puoi andare trip vieni in sospeso perché ti ho detto di uscire non volevo uscire ora vengo vabbè dai prova a rompere il culo tutti quanti dai a posto perfetto va bene allora il licenziato no no aspetta è licenziato trip a che cos'è si calma ma è licenziato perché o lui dopo questo è licenziato mi interessa un cazzo comunque dicevo il signore da quella volta si è posto come un muro e ogni volta appena qualcuno provava perché noi siamo tornati altre due volte altre due volte realmente c'erano delle persone che vogliono acquistare le auto e noi siamo ci siamo presentati sì ovviamente non lo nego siamo andati anche noi perché conoscendo il soggetto volevamo assicurarci che insomma si comportasse adeguatamente e ogni volta sempre la sua procedura no io non do consigli ogni volta in maniera sempre più arrogante ma nessuno si è permesso di offenderlo nel senso dire a una persona che non sa vendere le auto non è un'offesa è un dato di fatto signore non parli di arroganza con me però perché le consiglio di rivedere il suo modo di fare prima di dare della roba io mi sono incazzato perché io volevo acquistare una macchina e solo un cliente lei mi ha trattato come un pollo da spennare se il mio titolare io le dico una cosa se il mio titolare gli fa bene come lavoro non è compito suo a decidere se io sono competente o no per il titolare che mi dà il posto di lavoro gli sta abbastanza sono un cliente e ho il diritto di spennere l'ho fatto infatti ho fatto però perché oggi abbiamo parlato col titolare e lui effettivamente ha dato il consiglio al collega io ho provato a darvi dei consigli voi vi siete rivoltati contro di me perché non erano giusti allora ho preferito chi non fa non sbaglia e non ho fatto ok però ad esempio io sono venuto il secondo giorno e non mi ha dato nessun consiglio mi ha detto direttamente quello è il listino guardi io ho provato a dargli un consiglio lei mi ha detto che era un consiglio del cazzo mi scusi no non l'ho detto così ma se giustamente io le chiedo le chiedo un'auto d'epoca e lei mi consiglia una sportiva allora perché abbiate se non vedo consigli perché il suo lavoro e lei si pone in maniera arrogante tutto capito ma io non le dico come fare il suo lavoro lei non lo deve dire a me se lei mi vede mi fa delle domande può dire a mi scusi ma posso non mi permetterò in giro se io vengo lì da lei venditore di auto le chiedo un'auto d'epoca e mi consiglia un'auto moderna c'è mi sento preso in giro lì arrivano le mie competenze come se è come se è come se andassi in un negozio di scarpe ed essi un vestito per una scarpa per un matrimonio e mi consigliassero che ne sono una pantofola che è un catalogo pieno di auto che si possono provare fisicamente ma sa qual è il problema glielo ho spiegato la situazione che sono loro vengono dai quartieri come brooklyn capisci io lo rispetto lo voglio rispettare non sono abituato a vedere il vostro lavoro veramente io non sarei capace di farlo loro solente sono abituati ad entrare in un barbiere stringere la mano a tutti abbracciarsi vedono questi posti come luoghi familiari dove staccano la spina dal lavoro quindi magari cerca un rapporto umano qualche chiacca esatto invece lui ci rimanda quel catalogo vuole solo spennarci è questo che passa quando sì ma non è spennarvi come si pone lui black sembra di sì sembra che lì solo per incassare ma lei lo sa che io lavoro a stipendio brazo hai capito che il signore purtroppo è analfabeta vi manda il catalogo perché purtroppo cerca di compensare col catalogo quello che non sono le sue capacità deve ancora migliorarsi quindi secondo me c'è stato un grande malinteso e la cosa può finire con una setta di male e poi aggiungo una roba ha detto che lo perseguitiamo anche nei locali l'abbiamo beccato casualmente prima non lo stava mica cercando ma non avete lasciato un caffè signore avete continuato a parlare sopra io devo stare impressionato parlando mi scusi cioè no quello non è parlare quello è insultare signore e se vuole la rimanda ma anche prima quando lei ha detto che io ho offeso dicendo che una persona era ignorante sua moglie se non sbaglio ma mi scusi ma dire che una persona è ignorante perché effettivamente non mi salta la sua madre e da sua sorella dalla sua moglie le madri e appunto e non tiriamo in mezzo al mio moglie ma lì siamo in sul posto di lavoro io sto dicendo che riguarda i consigli lei stava parlando con me e ha dato capito ignorante alla mia donna e sì sto dicendo che riguarda il suo lavoro lei è ignorante ed è la verità perché non è non mi sembra di aver detto nulla di sbagliato è in adeguato e anche in adeguato e inopportuno mi scusi ma si è definito lei stessa a sua sorella sua madre non c'entra nulla se mia sorella non si chiamano mezzo mia moglie signora sua moglie era lì a lavorare se mia sorella fosse qui le stesse dando un servizio a me potete fare quello che volete lei non la dovete che non la soddisfa è l'unica cosa che mi metto in mezzo e che non non c'è nè di per me ma allora non la metterà di lavorare esatto la lascia a casa allora se non vuole sottoporla alla civiltà di tale dell'ignorante potrà che andrà le chiedo scusa per quello che è accaduto abbia pazienza mi dispiace per me i ragazzi che avete dietro di lei sono persone molto importanti per il mio dipartimento anzi le posso garantire che dovesse in qualunque modo macchiare il loro lavoro ne sarei dispiaciuto sa perché no è l'ultima mia intenzione che signor capitale questi due ragazzi sono degli eroi se lei non lo sapesse io sono cercato di salvare delle vite se per me questo tipo finge di essere così in realtà mi piace tipo il mafioso io vi rispetto signore lo dico qua senza reserve io vi rispetto rispetto il vostro lavoro non avrei il coraggio di fare quello che fate il vostro nome stesso dice anti gang so che cosa sia una gang signore io ho visto 40 anni sotto la mano della mafia mio padre ha 16 anni mi ha dato una pistola in mano e mi ha detto tu da domani fai quello che devi fare senza fare domani ho visto 40 anni in questo modo poi sai qual è stata la mia buona uscita? tre pallottole al petto sono venuto qua e ho deciso per la prima volta che potevo decidere di cambiare vita e di essere una brava persona e di redimere tutto quello che ho fatto che sia colpa mia oppure no e quindi io rispetto il vostro lavoro e lo stimo e vi prego di fare accettando e di avere un po' di pazienza nei miei confronti se io non sono abbastanza competente da potervi dare dei consigli ve lo chiedo per favore potete farlo? assolutamente ripeto è nato tutto perché lei si è posto in maniera a parer mio arroganti e mi scuso e accetto le scuse certo che accetto le scuse allora le stringo la mano andata però la possibilità che torniamo si rende disponibile io mi renderò disponibile nel limite delle mie possibilità signore e spero di un giorno di uscire per esempio se fossi venuto oggi a chiedere un'auto d'epoca oggi ho venduto una aspetta che ti ero dico è infatti black una Stanford che è molto bella è molto classica sembra quasi un'auto degli anni 60 ho capito però non la conoscevo fino a oggi capisce? sto imparando datemi la possibilità di imparare e dimostrarmi che io non ho niente contro di voi va bene va bene allora torneremo signori allora mi scuso per tutto il disagio che sei venuto a creare e figure e se avete bisogno di me per qualsiasi cosa di macchina o non macchina in quello che io posso aiutarvi sarò a vostra completa disposizione perfetto va bene lei come si chiama? Razorf io mi chiamo Turi gli amici mi chiamano Turi lei come si chiama signori? Marrazzo Barrazzo è stato un piacere conoscervi e spero che d'ora in avanti insomma si possa condurre una coesistenza pacifica perché io non ho niente contro di voi e penso che voi non avete niente contro di me assolutamente può andare allora signore capitano lei è stato veramente gentilissimo la ringrazio grazie a lei signor Stavatore scusi ancora e domani provvederò a ritirare tutte diciamo le cose che avevo portato dico che non voglio esporre nessuna denuncia le sono grato le sono grato no no è giusto così signore se non è tutto io è tutto può andare arrivederci 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 capitano si mi dica le posso chiedere una cortesia professionale dipende se posso aiutarmi se puoi aiutarmi potrebbe riassumere quel signore all'offore non voglio che per colpa mia perde il lavoro non l'ha perso per colpa sua non l'ha perso per colpa sua se lei ritiene che lo può fare a me farebbe piacere che il signore mi dispiace non posso è una questione di rispetto è venuto prima il vicecomandante è stato chiesto gentilmente di uscire dall'ufficio erano tutti fuori lo dico io che sono il comandante della centrale che si fiscia sulle scarpe mi dispiace questa cosa non va bene beh ora la discuteremo no non si preoccupa arrivederci 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 arrivederci